ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, vi do il benvenuto qui al canale siamo qui sul farmissimurator 22 nella vecchia campagna agricola allora sto andando avanti con la semina di qua invece mi stavo occupando di completare diciamo l'alimentazione delle pecore perché sta scendendo e anche del pollame se non sbaglio yes dovrò portare qualcosina perfetto allora andiamo avanti si di qua molto bene ho degli altri terreni poi da andare a completare con la semina vediamo un attimo come gestirla e qua però per il momento poi ci fermiamo lì come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale intanto che vi costra un attimo del vostro tempo è gratuito e vi ringrazio lasciate un bel pollicione in su che andate qui mi piace di milion like commentate giù lasciate giù una faccina un sorriso qualsiasi segno del vostro passaggio l'impronta sia un commento che possa aiutare il canale a crescere e vi ringrazio qua era tutto fuori asse non so come mai è giù in discussione tutti i link per seguirmi e supportarmi c'era ancora del cibo qua dentro vabbè allora qua ci siamo molto bene dovrei portare le proteine che sarebbero queste però manca il minerale che dovevo comprarlo e manca un po' di berbabietra da zucchero e che altro e un po' di orzo vediamo un attimo sì ma il problema mio è che questo produce poco e se io andassi ad aggiornarlo alla faccia 44 mila euro però perché me ne richiede abbastanza io andrei ad aggiornarlo se portiamo orzo e barbabietole così sistemo le due cose allora negli precedenti ho messo giù questo deposito mezzi diciamo non mezzi ma pallet perché non c'è un deposito per il latte delle capre allora abbiamo detto orzo che me ne servirà 16 mila rotti però vorrei che me lo contrassegnasse non c'è non so qual è vabbè io credo sia uno di questi sicuramente ok ci siamo spero possa partire oppure no se sì perfetto adesso gli portiamo le barbabietole quelle tagliate che bisognerà far barbabietole tra un po' queste sbabbabietole ma perché ho problemi con lo scarico ci sono andate tutte alla faccia anche qua 16 mila ok riempiamo nel frattempo qua dobbiamo muoverci perché ho concluso la semina e devo capire dove andare a seminare e cosa allora sicuramente e devo verificare mi serviranno barbabietole da zucchero perché non qua ne abbiamo solo 3000 e un campetto di barbabietole da zucchero bisognerà farlo una volta per tutte per cui quando è il periodo adesso ok i girassoli a sto punto andiamo a seminare le barbabietole da zucchero in un terreno non tanto grande perché tanto comunque non ho tutta questa richiesta allora noi siamo qua si potrebbe fare anche il 40 volendo però il 40 è proprio misero il 31 sì il 23 potrei fare il 30 o il 24 facciamo il 24 ma non mi bastano i soldi no non volevo fare il 40 perché effettivamente è un po pochino c'è il 46 mi tocca fare il 43 vabbè poi fatto una volta fatto per sempre sì facciamo il 43 allora ok qua ci siamo sperando che non vada a incappare in qualche disagio e disastro volevo visto che comunque avevo un bel po di erba e abbiamo preso il nostro diciamo stalla per pecore da latte io volevo la stalla per le pecore da lana che dovrebbe essere una di di queste però non so se ho i soldini per prendermi anche questa esatto vediamo un attimo dove sono sono qua io no 124 allora c'è una possibile vendita tipo il mais 29 500 e sarebbero un bel po di soldi che altro l'erba il latte da pecora lato dopo cura ottobre però se non siamo distanti dal prezzo io andrei a venderlo a sto punto sì ma non mi basta questo denaro qua 60 41 facciamo 100 e qua ne chiedono 124 esatto mi serve qualcosa di più sponsorizzato 47 mila euro a luglio finiamo con le semine esatto e andiamo a prendercelo a luglio quando vendo i semi di soia a sto punto si facciamo così ok qua siamo a posto devo solo finire le semine allora si dai allora barbabietole qua abbiamo fatto avena non si sa perché così è andata mi serve un terreno ad orzo che forse ho fatto il 46 che forse ho fatto il 46 si avena mi resta il 45 che è bello grosso e buttiamo giù il sorgo e poi che altro perché comunque qualche per le produzioni serve orzo e barbabietole per la maggior parte si il sorgo e questi due qua cosa mi butto non lo so vediamo un attimo cosa buttare giù vediamo 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 l'erba ci sta qua abbiamo detto sorgo però nell'immediato io andrei a mettere giù i girasoli e i semi di soia sull'altro ok girasoli per far qualcosa ok ottimo e anche qua posto così cambiamo subito e andiamo a girasoli nel terreno qui davanti dovrebbe essere il 23 o 22 uno dei due insomma facciamo il 23 comunque queste ops 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 comunque queste sono risorse che poi devo vendere non è che sono risorse da con cui mi devo imbattere in produzioni per cui allora mi servirebbe un'altra seminatrice sinceramente per fare prima però purtroppo devo aspettare i soldi per fare altro a meno che in questo momento io non abbia debito no potrei anche indebitarmi però magari aspettiamo di vendere sti semi di soia allora in pratica io adesso sto seminando i girasoli si aspetto un attimo e poi vado avanti per il sorgo e i semi di soia a sto punto perché non ho una seminatrice esatto vabbè ma il trattore più grande che ho è il t8 380 qual è? spero sia proprio questo sì molto bene che almeno ci acceleriamo i tempi qua di manovre allora fine dei giochi anche qui e ci siamo molto bene chiudi 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 ok buon posto non serve neanche piegarlo perché devo andare più avanti a seminare i semi di soia eccoli qua pronti via già che siamo qua li semino subito qua nel frattempo che il tempo avanza posso avere un minimo no non faccio a tempo a fare niente perché naturalmente mi rendo conto adesso che abbiamo i soldini per sì per fare quello che mi serve in pratica vabbè non importa meglio così andrò a vendermi comunque le cose perché sennò non ci siamo allora semi di soia su questo perfetto e che altro devo controllare le vabbè qua sta andando su dobbiamo andare su di un bel po' gli animali mi sembra che un mese lo tirino sì perfetto i terreni non hanno nessun problema molto bene forse ci sarà da tagliare l'erba però a sto punto visto che qua mancano 24 mila 4 5 mila euro gli chiedo io così mi prendo subito voglio vedere sto allevamento qua perfetto visita allora sta ovini allora io non voglio prendere da latte ma voglio lana a seconda della stalla ah vabbè non parlo più non è in quanto alla pecora ma è in quanto alla stalla spero che sia la stalla galles facciamo questa sì ma non ho i soldi per prenderle esatto 73 mila euro e in base alla stalla ok ho capito vabbè intanto abbiamo la stalla il che è già una buona una buona cosa finisco le semine a sto punto allora andiamo possiamo partire port andiamo su quella stalla lì a incoraggiarla con un po' di di acqua intanto sì però così non andiamo tanto avanti e e vado a prendere anche della ah sì carichiamo qua i pa 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 carichiamo il latte così vado a scaricarmelo ci passiamo qua sì accendo perfetto scarico questo recupero un po' di 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 erba anzi oh ma questo è sempre borderline comunque è sto tristino qua poi metto l'amico a metto l'amico a falciare subito prima di fare qualsiasi altra operazione ok dovremmo esserci molto bene vai perché questo ha già il programma e io lo lancio al primo punto basta solo far così ok vai ok questo si arrangia questo lo chiudo sta qua qua basta e avanza a sto punto vorrei i soldi per prendermi ste pecore sperando che questa sia lana almeno perché se no un'altra latte che due scatole però eh ottimo vai cambia rotto balla no balla quadra ma perché ho fatto quel cazzo di cancello qua che non ci passo mai per dio ok ma se io cambio non si può vabbè tanto sto sto erbaio qua basta e avanza per un bel po e questo ci siamo ora questo sta ottimo qua dovremmo venire subito a no ma questo può stare qua facciamo facciamo che vengo prossimo giro qua a che punto siamo va bene qua va più che bene qua cos'è 60 e 30 mancano gli animali o mi faccio il debito oppure allora sto notando una cosa però io ho tutte queste serre qua sparse ho tutte queste serre qua sparse però sono troppo complicate da gestire non è per tutti io non posso stare qua a gestire questa zona una alla volta facciamo così vendo sta zona qua perché è ingestibile ma se io vendo la singola serra vabbè voglio provare una cosa è che non ho la possibilità di farlo perché non ho il cumulo di concime perché sennò compravo un po' di concime allora metto due serre invece di averne sì facciamo così queste sono troppe vendi ok allora adesso dovrebbe essere sì ho questa questa e questa questa e questa però restiamo sempre sul punto che secondo me anche queste sono allora produzione serre mi sono trovato bene secondo me con queste sì possiamo posizionarle qua una tanto io non devo entrarci e tre vabbè un po' più in qua un po' più in là eccola qua danni minimi proprio bene allora io spero che l'altro non stia allora facciamo così meglio così secondo me allora acqua attiva poi quanti soldi abbiamo 64 l'aggiornamento 11 sì le aggiorno semi fertilizzante secondo me è un po' più facile perché i semi posso fare distribuzione e il fertilizzante pure ok e qua ci arriva l'empty pallet per il momento me lo compro costa una fottuta quantità di soldi perché mille mi costano mille e sei alla faccia dustu però 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 ne compro un pochini allora poi metterò giù la fabbrica in teoria dovrebbe arrivare un po' di robetta perfetto questo ha finito chiudi allora dobbiamo andare al sorgo a sorgo sì dove come abbiamo detto sorgo sul 45 e comunque se vedete c'era già cosa che c'è scritto voleva qualcosa ma fammi capire cosa vuoi rullo ph vabbè arrivo allora vediamo se mi fa questo sì ma so stava per finire dentro il polleio ok andiamo sul terreno sì fammi uscire da qua dovrebbe essere qua dritto sì esatto ok così gli diamo già una sistemata ok finito anche di passare la calce l'altro ha terminato con la falciatura e ci siamo ora dovrò andare soltanto avanti per sì per andare a vendere quei prodotti lì comunque io credo che tra un po' mi fermo qui come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale per chi non l'avesse ancora fatto è gratuito comporta soltanto un attimo del vostro tempo e vi ringrazio lasciate un bel pollicione in su che andiamo di qui mi piace commentate lasciate giù una faccina un saluto un segno del vostro passaggio e vi ringrazio e giù in descrizione da tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio anche lì credo che tutti i terreni siano stati sistemati a parte il 40 che sinceramente non lo andrei ad escludere esatto perché è troppo piccolo non ne faccio niente a sto punto non so vorrei prendermi le pecore come ultima storia ma mi sa che non ho ancora abbastanza soldi 73 facciamo un po' di debito perché sennò almeno scoprirò adesso cosa mi aspetta compra ovini sembra non ci sia scritto da latte sembra la stalla per eccola qua per la lana perché va molto bene perché è quello che volevo io perfetto molto bene allora questo posso lasciarlo qua perché tanto non mi interessa rimane questo da completare allora fine chiudess molto bene molto bene abbiamo finito con le semine e vado un attimo avanti a maggio ma solo perché no forse neanche perché magari c'è qualche bella offerta selectable no fast bail non è questa può essere questa ma non voglio questa e vendite devo tenere d'occhio luglio maggio la lana avete visto stiamo producendo lana adesso no ci sta molto bene 20.000 euro costo di produzione alla faccia vado a vendermi i semi di soia e il mais a sto punto però a gennaio la vedo dura i soldi scarseggiano novità novità a parte questa vabbè che non mi serve in questa mappa no 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 vabbè mi sembra che vabbè hanno consumato un bel po' di acqua forse le galline no le galline reggono vabbè abbiamo visto queste due nuove allevamento qua mi sistemerò sti pallet vediamo come fare il problema è che non vanno in distribuzione molto male dovrò portarceli io comunque io per il momento mi fermo qui vi ringrazio per essere qui in mia compagnia vi do appuntamento al prossimo gameplay ciao a tutti grazie alla prossima ciao ciao ciao